Una piccola postiglia, si è parlato prima di grande strategia internazionale della Meloni rispetto a Putin. Mi permetto sommessamente di far presente che il primo problema che abbiamo nel nostro paese non è Macron o Altri. Noi abbiamo un putiniano che è vice premier, che è Salvini, che è molto più imbarazzante di tutte le strategie internazionali e mondiali che sta facendo in questo momento la Meloni. Perché il nostro paese è notoriamente purtroppo visto anche come un paese putiniano per la presenza ingombrante e diciamo molto discussa di palesi putiniani nel nostro governo. Mi riferisco anche al vice premier Salvini. Infine una nota sulla questione delle altre sfiducia. Io credo che la sfiducia a Santanchè o a Salvini difficilmente passeranno. Però sono entrambi diventando per Meloni motivo di imbarazzo. Non abbiamo visto come ha risolto il premier Meloni alcune situazioni anche che la mettevano in grande imbarazzo. La Santanchè, indipendentemente dal fatto, se sarà ritenuta colpevole, rinviata a giudizio, è imbarazzante quello che la riguarda. Già io non l'avrei mai fatto fare una persona del genere con quella storia il ministro. Ma è evidente che emergono ogni giorno vicende come dire di una gestione quantomeno... No, 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 scusi, ma è chiarissima la sua posizione. Volevo sentire Pietro Salvatori sulla questione politica. Deve essere un flash, però Stefano volevi rispondere sulla Meloni, credo. Sì, l'onorevole mi chiamava in causa per quello che ho detto prima. Salvini Putiniano, io questo non lo so, però ricordo che la Lega con la maggioranza a febbraio di quest'anno ha votato per la proroga per gli equipaggiamenti militari all'Ucraina. Il suo partito onorevole con i 5 Stelle ha votato contro. Frato Gianni, che il suo leader nel 2022 ha votato contro l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, la Lega ha votato a favore con gli attuali partiti della maggioranza. Quindi prima di chiamarmi in causa, onorevole, si guardi in casa sua. Lei si agita per i rapporti dei suoi amici salviniani? No, io mi agito perché lei mi chiamava in causa dicendo delle cose che sono contraddittorie. Sono contraddittorie. Il suo partito ha votato contro gli aiuti all'Ucraina. La Lega ha a favore, tanto semplice. Sono stati sempre a favore della guerra, ma è legittimo. Il problema è che lei fa tanti giri di parole, però poi il dato di fatto è che state con Salvini che è putiniano. Lei sta aiutando la Russia non votando a favore. degli armamenti a l'Ucraina, è tanto semplice. Ma noi siamo per la pace, perché abbiamo votato a favore di Putin. Ah, lei è a favore della pace, ho capito. Di solito quelli che parlano di pace, pace, pace... No, però scusate, fatemi fare un passo avanti. È diversa dalla sua, noi siamo contrari alle armi, lei è a favore. Sì, sono contrari alle armi. Scusate, allora, la posizione di... Ma noi non siamo putiniani, noi prendiamo soldi da Putin. Sì, allora, scusate...